Ciao ragazzi, di condizionamenti abbiamo parlato molte volte nelle videopillole che ho fatto fino a qualche nepo fa. Sto tornando, come vi dicevo, a fare video molto più brevi per poi lasciare spazio ad eventi settimanali più lunghi e quindi dove riusciamo ad approfondire maggiormente questi temi. In preparazione della prima puntata, della prima live di martedì 20 con Giulia sul suo canale YouTube e anche sul mio, vi chiedo cosa pensate, qual è la vostra impressione sui condizionamenti che ricevete ogni giorno, se pensate di riceverne, quali sono, se avete mai pensato come vi condizionano nelle scelte. Noi ne riceviamo molti anche da qui e ne parleremo quindi in modo approfondito nelle prossime live a partire da martedì 20 sul canale YouTube di Giulia e anche sul mio alle ore 19.30. Ciao!